Ciao amici, nuova recensione, poi c'è il Topolino 3525 con questa doppia cover che ne crea soltanto una non è una variante ma un'alternative così chiamata meno da me che erano questo bellissimo disegno di dippolito, lo vedremo poi meglio con Topolino, Razio, Mini e T-Petup per cui in realtà l'unica cosa che cambia è la copertina neppure uno studio, una modifica interna, niente, non cambia assolutamente niente questo lo terrò chiuso da abbonato e arriva quella di Mini ma l'elemento che più salta all'occhio paradossalmente non è questo bellissimo mosaico che è il secondo caso che si verifica, quello di Natale in realtà quando uscirono furono due numeri consecutivi e non lo stesso numero quindi effettivamente la seconda volta e non la quarta come dissi in un video passato ma l'elemento che più salta all'occhio è il prezzo l'aumento da 3,20 a 3,50 che vuol dire quindi 1,20 euro mensile in più e vuol dire più o meno 15 euro o poco meno annualmente a me non tange, lo dico chiaramente, non mi crea un tipo di problema continuerò il topolino a comprarlo come se nulla fosse io penso che psicologicamente finché non si arriva ai 5 euro rimarrò di questa idea e penso però altre sì che il topolino io lo continuerò a comprare indipendentemente dal prezzo a meno che non vi sia un declino editoriale che non cambi la forma diventi spillato, diventi qualcosa di diverso dal topolino ma dubito che sia così e che sarà così, continuerò a comprarlo anche perché le mie spese regolari sono soltanto queste il topolino non compro nient'altro di euro fumettistico compro una variant ogni tanto quando esce devo recuperare l'ultima ma sono 5, 6, 7 euro in maniera trimestrale, a periodica ogni tanto esce, la compro compro il gadget in base a un mio interesse alla qualità e al prezzo proposto e eventuali ristampe di casti in cartonato nient'altro io feci dei tagli, grandi autori non lo continuerò perché 8 euro a volume per ristampe non me lo posso permettere e non mi serve collezionisticamente per leggere 10 pagine redazionali fossero 5, 6, non lo so non mi dà nulla in più contenutisticamente io sono un fan particolare un collezionista che vuole il topolino li ha tutti ho questo grande piacere, fortuna, onore, culturale da avere tutti il topolino ho tutte le variant fino ad oggi eccetto quella gifoni che si può considerare variant relativamente per il modo di distribuzione ma di fatto lo è gadget non mi pento di quelli che non presi perché è in base a un mio interesse e casti perché è il mio autore preferito ho le idee ben chiare non mi interessano tutte quelle ristampe che escono attualmente perché sono una perdita di soldi per me botte di 20-30 euro per storie che comunque possiedo facciamo un esempio il destino di Dio Paperone storia magistralmente operata da Celoni a cavallo dal 22-23 quindi ieri, 5-6 mesi fa proposta e incartonato o imbrossurato non ho mai visto ancora in fumetteria a mi pare 25 euro ma perché dovrei prenderlo? per avere la migliore storia in formato più grande per avere i redazionali le tavole inedite no cioè non mi interessa la storia la conosco l'ho letta l'ho apprezzata avendo un canale l'ho anche recensita l'ho condivisa con tanti di voi finisce lì collessionisticamente mi interessa il Topolino nient'altro quindi questo discorso per dire che a me l'aumento non tange per fortuna ovvio che se tu compri all'ascolto non solo il Topolino ma anche il Textile il Diabolic il grande classico il grande autore la ristampa di Tizio compri qualcosa altro per altre case editrici è ovvio che l'aumento non riguarda solo il Topolino ma sta riguardando più fumetti e secondo me il Topolino è il fumetto ad oggi in proporzione a quello che offre che costa di meno sì ci sarebbe Diabolic ma quello è un mensile bianco e nero con forse anche meno pagine con zero redazionali zero contenuti e con una storia lunga il Topolino è l'unico fumetto per il rapporto qualità prezzo che riesce a distinguersi attenzione non voglio dire che l'aumento di prezzo quindi io lo gradisca è ovvio che io preferirei che non ci sia ma lo accetto polemizzare non serve a niente chi polemizza per l'aumento di prezzo è libero di non comprarlo secondo me per 30 centesimi per 15 euro annuali circa poco meno non dovrebbero tangere nessuno se vi limitate a comprare il Topolino ci ho detto guardiamo l'albo meglio assieme però mi perdoniate per questa premessa molto lunga discorsiva ma volevo farla vis-à-vis col mio volto dire quello che penso e questo anche per risponderti coloro che sperano che io compri certe ristampe ma non voglio fare un torto a chi me lo chiede ma non mi interessa proprio comprarle e quindi lascio stare preferisco quei 20-30 euro spenderli in Dicitopolino di qui ai prossimi anche perché io nella mia vita ho altre priorità oltre il fumetto e il fumetto sta diventando qualcosa non per tutti popolarmente lo è stato adesso è qualcosa che su cui ci si è speculato su cui si sta speculando e su cui la materia prima costa questo è un fatto e quindi inevitabilmente qualcuno scende da questa nave di collezionisti degli appassionati magari lo rimane appassionato leggendo comprando altri fumetti ma se il Topolino non piace a questo prezzo ognuno è libero di uscire e poi tornare magari prima o poi in ogni caso non vuole essere una polemica verso nessuno tanto meno verso chi mi guarda semplicemente per fatto personale a me non cambia assolutamente niente se il Topolino costi alla fine neanche 15 euro all'anno in più per le motivazioni che già dissi ma limitiamoci al fumetto che ovviamente è veramente bella l'idea a livello di marketing poi è spaziale perché chi non è abbonato non paga 6,40 euro come avrebbe pagato settimana scorsa ma ne paga ben 7 perché compri un fumetto ma lo paghi 2 per avere l'intero mosaico anche se secondo me può essere visibile benissimo il disegno anche senza la controparte di Minni o viceversa però queste sono scelte per esempio chi pensa che il prodotto non valga 3,50 euro ovviamente non comprerà anche la seconda copertina alternativa io l'ho fatto perché non mi tange non mi crea problemi bravo Di Polito complimenti per l'idea ovviamente bravo anche a Sciarrone perché è colui che gli dà gli la data perché la storia di Fast Track Mickey è sua l'unica cosa che io critico a Bertani è il fatto che questo redazionale andava fatto la settimana scorsa e non nel fumetto in cui l'aumento si è avverato io l'aumento su una questione di rispetto fra la cattedrice e il cliente è chiaro l'aumento di prezzo ci può stare negli anni parlando con Gaspare un amico di questo canale l'aumento di prezzo c'è sempre stato e tra l'altro in rapporto al potere d'acquisto negli anni 90 forse era anche più alto rispetto ad oggi in proporzione magari da 2000 a 2500 lire negli anni 90 comunque erano soldi pure quelli però io qui entro nel rispetto secondo me andava anticipato andava la settimana scorsa perché io andavo in edicola e casco dal pero sì sapevo dal paper sera ieri oggi registro che è mercoledì ieri sapevo martedì che il prezzo sarebbe aumentato ma la diceria di fondo era che sarebbe stato il fumetto successivo e non quello in cui Bertani annuncia l'aumento di prezzo tutto qua c'è poco da dire Bertani si giustifica giustamente lecitamente col discorso delle materie prime alla fine il problema è quello vedremo io ripeto fine 4 euro arrivo ma secondo me anche fine 5 penso di riuscirlo a vedere poi chissà potrebbe anche essere che dai 5 euro in su il fumetto cambia forma oppure cambia periodicità ne parlavo proprio con qualche collezionista di cui Gaspari ne parlavo con con Massimiliano con altri amici di questo canale che perché no pubblicarlo quindicinalmente pensiamoci non voglio essere io promotore ma se i costi si rivelassero talmente alti e il guadagno talmente basso da dover poi aumentare ancora il prezzo nel corso di ogni anno 20 centesimi pensiamo alla quindicinalità certo si taglierebbe le gambe a scrittori a disegnatori ma possono essere inserite in altre testate o comunque rendere un fumetto più grosso non lo so più spesso di pagine io ci penserei se ogni anno aumentiamo di prezzo davvero a 5 euro ci arriviamo in 5 anni e invece quindicinalmente forse possiamo in qualche modo rattoppare questo aumento di prezzo è una mia idea ecco qua il disegno di deep veramente carino che spiega il perché e questo è l'indice full circle fast track mickey di sciarrone una storia su rocker duck di fontana e cavazzano una storia di alessandro bassovicchio che in realtà è la terza parte di tre e poi martinoli perissinotto di time machine misadventures termina coppola con paperina paperoga ecco in questo numero torna anche soltanto in questo caso un redazionale che a me piace quello di marco nucci quello in cui si introduce alla storia una storia che uscì circa due anni fa di cui io non ricordo nulla meno male che nucci feceva questo riassunto o meglio ricordo l'impresa di topolino nell'inseguimento verso un tizio ma con la sua macchina non ricordo nient'altro questo è il modo in cui secondo me il lettore anche l'appassionato come me riesce in fretta nell'arco di 20 secondi a ricordare tutto e non mi permetto sempre marco nucci tramite questo redazionale confusionario io non lo leggo perché mi mi dà fastidio preferisco di gran lunga questa pulizia questo ordine che c'è sempre stato tra l'altro se ne occupava Barbara Garufi se ne occupava Grati recentemente nucci ma che dà un'idea chiara e anche in termini di ordine di tutto quello che è accaduto Fatrack Mickey quindi in estrema sintesi Topolino ecco lui che grazie a questa macchina più o meno riuscì a inseguire un losco individuo nella scorsa grande stagione che voleva e aveva l'ambizione di creare nella tangenziale un giro di malvivenza losca di macchine che potessero creare ecco un business ovviamente illegale e la storia riparte da questo piccolo incipit della fase stagione a cui si aggiunge Minnie che risulta essere una autista provetta tra l'altro Minnie non la ricordavo ma era così anche nella prima stagione perché mi sembra molto più piccola sì che Charron ha un tratto tutto suo però avevo fatica a distinguerla pensavo fosse un'amica di tippet up anche proprio per statura e per questo fiocco messo in maniera diversa invece questa è Minnie e non è un'amica di tippet up ma è la pianta di Topolino in ogni caso Charron sperimenta ed è l'unico a farlo forse uno dei pochissimi che ha coraggio in quello che fa e quindi è da apprezzare si aggiunge Minnie perché grazie a lei tippet up e Orazio Topolino vivrà un'altra avventura in primis con il VR ovvero con il simulatore ma poi effettivamente grazie a un'idea avuta da un altro tizio di cui mi sfugge il nome eccolo qua Colin McRick a quanto pare Topolino viene chiamato per anticipare alla 24 ore di Topolino esattamente come accadde per Paperopoli storia che ricordo molto bene più che altro per i disegni non tanto per l'avventura potrebbe riverificarsi anche a Topolino in tutto ciò altro elemento vi ricordate la macchina di quell'osco individuo che Topolino inseguì se vi ricordate anche quest'altra cosa ricorderete che finì in un fossato ecco quella macchina venne ripresa da Orazio venne portata nella sua officina per estrarre tutti i pezzi che possono servire quindi per partecipare a quella gara ovviamente il losco individuo di cui mi sfugge il nome ma nella zona c'è scritto di cui si fa riferimento Freddy Thunder non la prenderà bene e questa è la prima parte vedremo come andrà a finire sono i presupposti per essere una stagione in linea con quella passata non sono un grande fan di Fast Track Mickey secondo me delle ultime opere degli ultimi 3-4 anni di Sciarrone è quella più sottotono ma perché è quella che almeno di Fast Track Mickey la prima serie non ricordo nessuna emozione non ho avuto un particolare sentimento se non bello graficamente a differenza di Area 15 Foglie Rosse e tante altre storie vedremo come sarà questa altra stagione i denari i denari del giovane Rockerdack primo ma anche secondo il periodo di Fontana e Cavazzano i due Giorgio ci regalano una storia interessante che rispolvera il passato di Rockerdack Rockerdack è un personaggio di cui molto spesso si parla dal passato ma secondo me da me lettore non c'è ancora una linea precisa io non capisco ancora seppur ho provato questa storia chi era davvero Rockerdack perché se dello zio abbiamo grandissime saghe grandissime storie di Don Rosa di Scarpa e tantissimi altri autori nel corso dei suoi 70 anni e più di fumetto Disney Rockerdack non è alla pari e quindi quando si parla del passato a me non vengono in mente tante cose sono anche figlio di Howard boom questo è l'unico incipit che ho in questa storia si scopre come lui è arrivato a essere quello che è ovvero un papero miliardario apparentemente viziato e burbero perché di fatto è così che venne cresciuto almeno questo è quello che si vuole far credere e tra l'altro già questo lo sapevo anch'io me lo ricordo perlomeno Howard papà di Rockerdack conosceva lo zio e per cui vi è pure questa influenza come a dire che i due acerrime nemici indirettamente si conoscevano fin da bambini perché effettivamente avremo anche delle parti in cui i due parlano reciprocamente la storia segue quindi in questo filone divisa in due parti secondo me poteva finire anche prima non era necessario fare due episodi poteva essere un lungo flashback senza un'introduzione così ampia una conclusione così altrettanto ampia storia godibile i disegni sono bellissimi Cavazzano si migliora è strano da dire ma dopo 60 anni di carriera da inchiostratore inizialmente quindi in realtà sono 56 anni di disegnatore effettivo perché contiamo i 5 anni anche di differenza dall'inchiostratura al disegno effettivo dal 62 al 67 quindi dal 67 ad oggi 53 anni di carriera riesce ancora a stupirmi penso sia l'unico per esempio Marco Rota anagraficamente pure più anziano ma non ha un disegno così bello sono sincero Marco Rota ovviamente non è in discussione per le sue opere culturali per quello che ha fatto per Topolino ma Cavazzano si è saputo evolvere non ha nulla da invidiare a quelli attuali Marco Rota invece è rimasto imprigionato secondo me nella sua forma nel suo disegno di tanti anni fa quindi Cavazzano Re Giorgio Valtru che è omaggiato bellissima storia secondo me adatto Cavazzano con queste storie nel passato e bellissimi disegni mi è piaciuta molto che poi sia una one shot che sia ripresa un domani o che sia una storia così che si conclude inizia e finisce va bene ugualmente dopodiché abbiamo un'intervista sia a Fontana che a Cavazzano quindi ai due autori sulla storia in questione che non mi aspettavo perché di fatto è una storia sì che inizia e finisce ecco non pensavo che ci fosse spazio anche un'intervista che ho apprezzato guardate che belle sono i bianco e neri o meglio ancora il pre-china perché non so se sia Cavazzano a farlo qua si parla di un disegnatore ecco no le chine sono di Zemolin che è lo storico chinatore di Cavazzano e non solo suo e il colore di Putra Shabbin Binab Jalil ma guardate il pre-china chiamiamolo così quanto è bello Cavazzano io lo stimo particolarmente per il suo disegno puro nudo e crudo senza la china addirittura e senza il colore perché sono un fan del bianco e nero andiamo avanti con il terzo episodio di Topolino fattore gamma la quadratura del quasar storia di San Patrovicchio che nel supervisiono al colore il disegno e la segnatura del soggetto fa tutto lui eccetto il colore stesso che è da attribuire a Chiara Bonacini che ha fatto un lavoro eccelso non mi ricordo se anche nelle due prime parti fosse così complimenti a lei la storia l'ho trovata un po' complessa sono sincero penso che la dimenticherò voglio partire a bomba con questo commento un po' critico perché a me la storia fantascientifica di turno non piace non gradisco il genere sono fatto così io per cui non ricordare una evoluzione oggettiva soggettivamente la dimenticherò anche perché è complessa nei termini l'unico termine che ricorderò il quasar questa materia topica che gamma io lo chiamo così il nome poi in realtà viene detto alla fine ma non voglio fare spoiler non più di tanto ha rubato questo quasar per motivi personali insieme a Gimel la sua macchina per conquistare il mondo meglio l'universo molto fantascientifica però non ricordo nient'altro se non questo inseguimento che nella prima parte ho molto gradito perché si limitava a topolinea e finché si rimane in città a me le storie di questo tipo piacciono quando si entra in queste zone universali spazio temporali si creano paradossi quarte dimensioni ipercubi trasmettitori risonanze quando si entra con questi termini io mi distacco un po' mentalmente faccio fatica a leggere la storia ma riconosco il grande impegno dell'autore Alessandro Bastovic si è consacrato con questa storia non che prima fosse sconosciuto ma sicuramente ora abbiamo una storia non solo di Lorenzo ma anche di Alessandro da cui poter partire e poter dire chi è l'autore quindi complimenti a lui un'opera magistrale di cui ricorderò in particolare a Tomino per le sue espressioni ma anche Enigma guardate che bello anche Alessandro comunque sta avendo un tratto molto riconoscibile distinguibile vedremo però quanto spazio avrà di qui ai prossimi anni mentre il nemico l'ho gradito ma relativamente perché potete ben capire che fine fa anche se secondo me c'è uno spiraio di poter ritornare ma io non aspetto il suo ritorno visto che l'elemento di base è fantascientifico e a me il genere non piace ma io darei 10 per l'impegno a questo grandissimo autore poi soggettivamente fossi io l'insegnante non mi permetterei mai ma fossi dovessi essere io il giudice della storia rimarrei influenzato dalla mia idea personale e non gradirei troppo l'avventura in sé ma complimenti e disegni molto colorati tra l'altro io penso che il colore sia da padrone ma anche perché pastrovicchio stesso ha supervisionato qualche redazionale sulla natura di Agrati sulla Basilicata che si celebra ulteriormente come nell'ultima di copertina bellissime queste immagini molto evocative ultima avventura Time Machine Miss Adventures Missione Vacanze Martinoli e Perissinotto continuano queste stravaganti avventure portate avanti per pensiero da Archimede del 3000 chiamiamolo così un pro 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 nipote di quello che conosciamo oggi che si riguarda quello che è accaduto tanti anni prima o addirittura un millennio prima i nipotini a quanto pare non vogliono vivere l'ultimo giorno di scuola non capisco il motivo l'ultimo giorno solitamente è anche il più bello secondo me narrativamente poi dirò non è che ho apprezzato questa idea non vogliono viverlo e quindi vogliono passare al giorno successivo per cui si intruffolano di nascosto distraendo Archimede nella macchina del passato del futuro del tempo insomma per andare già al giorno dopo ma in realtà faranno un grande errore perché invece che nel giorno dopo andranno nel passato di circa 150 anni prima non mi è chiaro come esso sia accaduto tuttora avendo letto la storia però è quello che accade narrativamente l'idea non mi piace perché per me l'ultimo giorno di scuola sarò che sono insegnante malinconico nostalgico io starei a scuola tutti i giorni sia da studente al tempo che da insegnante oggi ma non è un elemento secondo me da cui partire per creare una storia ho questa impressione personale poi c'è questo colpo di scena che non va nel futuro ma nel passato e quindi la storia ha una parvenza di senso ma di fatto non l'ho molto apprezzata l'idea tutto qua torniamo sempre al discorso personale soggettivo io non gradisco questo tipo di storie di Time Machine perché speravo Miss Adventures fosse una rubrica di storie che prima o poi avesse un senso di esistere prima o poi filo rosso che unisce tutto è Archimede che guarda il passato nient'altro Archimede è proprio nipote di cui lo conosciamo che guarda il passato io speravo pensavo che ogni tanto comparisse qualcosa che fecesse riferimento ad altre storie di questa rubrica invece no anche se riconosco in questo caso un ottimo disegno di Perissinotto fantastico veramente veramente bello anche lei è un'attrice che si è consagrata recentemente grazie anche ai due volumi giunti di Paper Dante e Paper Manzoni e forse pure il canto di Natale di Charles Dickens lo illustro lei forse non ricordo ma sicuramente i primi due sì per giunti e Martinoli fa un lavoro comunque impegnato impegnativo ma che non ho apprezzato arriviamo alla conclusione dell'albo con qualche disegno pochi però in questo caso sull'argomento Fast Track Mickey dei bambini comunque carini ecco questo qui è un gadget che devo ancora capire se prendere o meno anche in base al prezzo non so cosa sia io ho un po' letto ma non mi voglio neanche far troppo influenzare quindi rimango ancora un po' nel limbo se comprarlo o meno sicuramente il primo numero lo prendo quindi mercoledì prossimo ne parleremo assieme ma ho la vaga impressione che non continuerò perché a parte il prezzo che comunque è alto non sembrano così troppo interessanti per me che non amo il gioco da tavola che non amo questo tipo di prodotto è un fumettino però non pare essere una storia non l'ho capita boh capirò poi ci sono le carte bisogna capire con gli indizi il primo lo prenderò ma anche per una questione economica forse mi limiterò soltanto al primo sicuramente la cosa da fare sarebbe tenerli chiusi tutti e tre perché è l'unico modo per collezionarli aprirli poi si riesce di perdere di rovinarli questo è ciò che io ne dico il grande classico di Paperone bellissima la prossima cover veramente carina non so chi sia potrebbe essere Perina Mastantuono o lo stesso di Polito molto bella o anche Frecero perché no mentre questi sono gli autori nel prossimo album Artibani e Soldati con un altro di Paperino Pienta Paperone con Stabile Bertani e Marco e Stefano Rota questa è sicuramente la storia secondo me di cui avrò una maggiore aspettativa Pippo Spot Fiuto Joe lasciamo stare non sono particolarmente fan storia di Faccini con Archimede Fast Track Mickey e poi terminerà Nucentini questa volta termina Coppola con la One Shot e con Paperone Paperoga il primo sempre più disperato il secondo sempre più strano ecco nella relazione con il primo ma non di Paperoga che dire l'albo è meritevole sicuramente verrà ricordato per un motivo collezionistico vista la doppia cover o meglio l'alternativa io do un voto 7,5 non di più ma neanche di meno questo indicare che l'albo è comunque ben confezionato ma visto l'aumento di prezzo non posso neanche dare un voto esageratamente alto le storie inserite sono relativamente interessanti dubito che ne ricorderò qualcuna di cui ha un anno per dire o di cui addirittura ha qualche mese vedremo Fast Track Mickey sono comunque curioso di Sciarrone quando dovrà mettere mano alla pista e quindi all'inseguimento eventuale e alla corsa che ci sarà sicuramente quindi il dinamismo e il movimento ci ho detto alla prossima ciao ciao